San Rinaldo ci esorta ad un momento di riflessione per vedere se anche noi condividiamo i valori, gli ideali, gli obiettivi che lui ha coltivato in vita. I valori di allora, del suo tempo, sono anche i valori di oggi, i valori che ci vengono da una sana umanità, dal Vangelo, dalla famiglia, dalla giustizia, dalla pace, dalla fraternità, dall'onestà, dal perdono. San Rinaldo si è impegnato per questi valori e noi possiamo dire di stare dalla sua parte se condividiamo questi valori. Lo ha detto il Vescovo Monsignor Marcello Bartolucci, segretario emerito del Di Castero delle Cause dei Santi, venerdì 9 febbraio, durante il pontificale celebrato in occasione della solennità di San Rinaldo, patrono di Nocera Umbra e compatrono della diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino. In tanti hanno partecipato nella concattedrale di Santa Maria Assunta, Nocera Umbra, alla Santa Messa concelebrata dai sacerdoti delle diocesi tra cui i vicari generali Don Jean-Claude Azumet e Don Giovanni Nizi, presenti le autorità civili e militari. Sentiamo le interviste. Ci sono dei documenti molto antichi, contemporanei a San Rinaldo, che parlano di lui, della sua vita, delle sue virtù, ma la parte più importante che Nocera ha non è tanto il corpo, cheppure merita venerazione, ma è l'eredità spirituale che San Rinaldo ha lasciato. Un uomo che è vissuto per Dio prima come remita, poi come vescovo di Nocera. Quindi nella sua vita troviamo le due dimensioni, quella verticale del rapporto intimo profondo con Dio e il rapporto orizzontale con il prossimo. Ha servito la Chiesa e la Chiesa ne custodisce con devozione la memoria. San Rinaldo è un santo molto popolare perché, come ha ricordato Monsignor Bartolucci, è uno di noi, è uno della nostra gente. E come ogni storia di santità, attraversa i secoli, attraversa le generazioni e ci proietta nel futuro. Perché i santi ci parlano di Gesù, anzi i santi rendono più vicino Gesù al popolo, più vicino l'umanità di Gesù alla sua gente. San Rinaldo chiediamo che interceda per tutti, non solo per Nocera, ma anche per tutti, la pace e la speranza che ritorni il sereno e terminano queste guerre che non hanno un senso solo di morte e di distruzione. Questo è un grande pastore, un grande vescovo, quindi come sacerdote è veramente una grande gioia poter celebrare questa carestia, questo grande santo. Tutti noi ci affidiamo a San Rinaldo per variate necessità di cui abbiamo bisogno e quindi per noi poi la figura di San Rinaldo tutt'oggi è una figura centrale per la nostra comunità e quindi emozione e gioia di festeggiare il nostro patrono.